È il cammino di Gigi D'Agostino Anni noiti An-an-an-ni An-an-an-an-ni An-an-an-an-an-an Non dimentichiamo che da quando ha avuto inizio il mondo milioni di bambini si sono addormentati al ritmo della Nina Nanna Cantata dalla mamma Grazie a tutti 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 Buongiorno, io sono Gigi D'Agostino e lui è DJ Maxwell Buon pomeriggio, complimenti, buon lunedì Abbiamo Elena che ha un problema tecnico però adesso parlerà Al microfono che non ha voglia di lavorare Adesso aggiustiamo Chiamiamo i tecnici Se suoniamo quel brano a 90 è già lì Perfetto Dopo ho da leggerti un po' di cose interessanti Vedo che sei arrivato con i manuali oggi Ma dopo molto dopo Abbiamo un po' di cose interessanti Grazie a tutti. 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 Roba di Gardaland. E allora io col microfono, sai che io c'ho il microfono facile, no? Staticamente. Ho registrato perché effettivamente, cioè, lui ha descritto nel suo immaginario, ha visto le giostre. Perfettamente. Ma neanche tanto le giostre, proprio Gardaland. Cioè, quel mondo lì che poi tu puoi andare un po' dove ti pare, no? Bellissimo. Cioè, che tu senti questo loop, questa... questa cosa che si ripete perché dico lupo e tanti non sanno dopo spiego ecco l'altro giro l'altro giro insomma ognuno può vedere le giostre che vuole questo è il punto se parte ci senti da sta vecchia iscriviti al canale a lasciare tutte le cinture di sicurezza Gigi D'Agostino Roma De Garda è il cammino di Gigi D'Agostino prova il me si dovrei prova il me e dice prova il me punto di vista e capire prova il me e certo prova il me si dovrei prova il me e certo prova il me punto di vista e capire prova il me e certo prova il me si dovrei prova il me e certo prova il me Prova girme, è certo Prova girme, è certo Prova girme, è certo Prova girme, è certo Prova girme Prova girme, è certo Prova girme, è certo Probabilmente, sì, dovrei, probabilmente, 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 è certo I disturbi sono solo parole mai dette, energie inespresse. Perché ci ammaliamo così tanto in quest'epoca? Perché? Perché non esprimiamo più le energie primordiali, siamo controllati, vogliamo essere protagonisti e gli dei si ribellano e ci mandano i disturbi perché lo capiamo una volta per tutte. Se sei tu il protagonista, il regista, loro non possono scendere in campo e si adirano. A questo proposito, Napoleone, parlando di se stesso, affermava che esistevano energie vibranti e misteriosi. Energie vibranti e misteriose che gli avevano permesso di realizzare ciò che gli dei avevano deciso per lui. Una potenza misteriosa mi spinge verso una meta che ignoro. Finché non l'avrò raggiunta, sarò invulnerabile, invincibile. Dopo, anche un soffio di vento, basterà rovesciarmi. No, così. Tanto per dire... Grazie a tutti. Grazie a tutti. iniziamo a costruire qualcosa perché quando finisce di pranzare il capocantiere arriva qui e non ha tempo da perdere, vuole cominciare subito a lavorare. Ti trova sempre impreparato. iniziamo a costruire il capocino. 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 perché non si capisce andare in onda cosa vuol dire? ma... quelli che fanno surf possono dire che vanno in onda. ma comunque per dire si va in onda. cioè voi potete sentirci ascoltare noi e questo che urla sotto ogni giorno dalle 2 alle 3 del pomeriggio su M2O. ecco, infatti, questa è casodag.com diciamo, era solo per chiudere. iniziamo a costruire il capocino. Grazie a tutti Sì, voglia di sentire quell'altra lì, quella molto più veloce Ma giusto per dare un po' di velocità, neanche troppa, ma qualche punto Ecco, infatti, la comunicazione intensa era questa Punti esatti, perché mi piace darli giusti 114 Punti esatti, perché mi piace darli giusti Comunicazione comunitensa Comunicazione comunitensa Molto intenzione intensa Comunicazione Vai maestro, parti E-N-O-E-S-U 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 E-N-O-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E-S-U-E Grazie a tutti. 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 tutti a tutti. Grazie 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 a tutti. Dove la felicità. Dove la felicità. Dove la felicità. Grazie a tutti. 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 Le leggi dell'amore non sono mai quelle dell'io. Per questo nei confronti dei nostri innamoramenti dobbiamo imparare a non decidere. A farci da parte. A lasciare accadere. Così come il mixaggio sbagliato di Maxwell. La felicità è un po' diversa. A noi non spetta alcuna regia. Il protagonista è Eros. Gli faciliteremo il lavoro e ci faciliteremo... È difficile. Gli faciliteremo il lavoro e ci faciliteremo la fioritura soltanto se riusciremo ad avere il coraggio di guardare con quel senso di estraneità di cui dicevamo prima e di ascoltare le emozioni intense senza esprimere alcun parere. Constatare ciò che arriva dall'interno. Ciò che sentiamo senza pensieri. che apre le porte alla ragione del cuore, ai talenti dell'anima. A volte io mi perdo però poi torno qui scrivo un'altra storia che mi accompagnerà perché c'è sempre un modo nella strada un mondo che mi può ridare la forza che so da avere con me è forte una montagna è fragile con me l'abbraccio di mia mamma mi stringe forte a sé lo sguardo di mio padre mi rassicurerà e non sarò me solo in questa investita mi chiedi cosa penso e ascolti il mio silenzio non so raccontare cosa mi fa ridare ma rimani qui con me guardiamo tutto intorno e camminiamo insieme ti conto al nuovo giù a volte io mi perdo però poi torno qui scrivo un'altra storia che mi accompagnerà perché c'è sempre un modo una strada un mondo che nell'unità c'è un grande universo perché ogni amore è sempre diverso e chiuso gli occhi e immagino un mondo che è un mondo che vuoi disegnerlo un giorno per voi come un immo io mi pasticcerò solo case dal cielo e il prato farò per riscoprire ogni cosa con te a volte io mi perdo però poi torno qui però poi torno qui scrivo un'altra storia che mi accompagnerà perché c'è sempre un modo una strada un mondo che mi può ridare mi può ridare la forza che so di avere in me sembra che la natura abbia nascosto in fondo alla nostra mente un talento e un'abilità che ci sono sconosciuti soltanto le passioni hanno il diritto di metterle in luce questo è il nostro compito sublime diventare osservatori e ascoltatori dell'anima ogni comomento ho sbagliato a leggere ogni commento sarebbe solo dell'io del passato di quel personaggio che crediamo di essere proprio quello che Eros vuole allontanare per realizzare la nostra vera natura Grazie per la visione Perfetto Perfetto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti